Siamo a Peschina del Garda nella località Mandracchio e siamo qui per sviscerare il perché di questo curioso nome e l'etimo di questo toponimo. Mandracchio deriva da una parola latina mandra che vuol dire magazzino, vuol dire luogo recintato per contenere delle merci di piccole dimensioni. Il vezzeggiativo era Mandraculum che potremmo oggi noi tradurre come sgabuzzino o magazzinetto. Questo indicava nel linguaggio marinaro medievale un piccolo porto dove si mettevano le barche di pescatori o da di porto, ovvero barche che non erano espressamente dedicate o all'attività di guerra o al grande trasporto mercantile. Perciò quest'area di peschiera che andava dalle mura veneziane fino alla riva più orientale veniva appunto chiamato Mandracchio perché qui risiedevano le barche dei pescatori locali, fuori da quello che era il porto militare che si rivolgeva verso il lago, ovvero a nord. Anche questo serve a capire meglio dove viviamo, cosa facciamo e perché il mondo che ci circonda è estremamente più affascinante di come appare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.